benvenuti amici vapers benvenuti canale youtube lì svavo e io sono mister nino tata trattino pasto gnt recensione geek vape athena squonk box mod e atomizzatore correlato nel kit box in alluminio pesa 200 grammi molto reattiva e performante volete sapere di più dopo la sigla recensione ed eccola qui ragazzi athena squonk kit una delle tante attese box bf economiche che arriveranno quindi prodotte dalla cina e commercializzati con vari brand questa è la seconda che vi porta recensione la prima è stata appunto la run box andiamo avanti nella parte frontale quindi troveremo il marchio del brand geek vape athena squonk kit e quindi la fotografia presa di profilo del kit ovvero la box e dell'atomizzatore correlato nel kit atena nella parte quindi più stretta gioco quindi di immagini la l'immagine quindi la foto della box presa di profilo dietro alcune informazioni dove ci invitano a visitare il sito www geek vape punto com e ancora a lato l'immagine quindi della box presa di profilo andando ad aprire quindi la confezione via la parte di rivestimento di cartone e troveremo quindi il cofanetto dove sarà appunto alloggiata la nostra box in prima vista box ed atomizzatore andiamo a vedere invece al suo interno troveremo libricino di istruzioni contenente quindi anche la lingua italiana le varie colorazioni della box in commercio sono quattro questi il kit questi i colori dell'atomizzatore è possibile acquistare solo ed esclusivamente la box solo corpo solo ed esclusivamente l'atomizzatore atena una boccettina super soft in silicone parti di ricambio ovvero comprensive di una chiavetta t con due cacciavitini a taglio uno a stella drip tip con attacco 5 10 adattatore per drip tip con attacco 5 10 secondo pin bucato bf grani e viti di riserva ed infine la nostra box e tina al suo interno alloggiamento per una batteria 18 650 ed un ulteriore boccettina 6,5 ml con marchio quindi proprietario cerco di farvelo vedere eccolo qui in trasparente geek vape è molto dura ragazzi è veramente dura io mi ci sono trovato veramente scomodo con quella in silicone secondo me è troppo morbida e quindi l'unica cosa che farò su questa box è andare appunto a cambiare a sostituire le due boccette con una super soft di mio gradimento andando quindi a svitare l'atomizzatore richiudo la box e ne guardiamo subito le caratteristiche di entrambi partiamo quindi dall'atomizzatore adena squonk rda dimensioni quindi sono 24 per 25,5 in altezza di materiale acciaio inossidabile dual post lest pin bagnato in oro ve lo faccio vedere quindi da sotto alcune scritte che riportano quindi il marchio atenea il marchio c e disegnato quindi da geek vape ultime drip tip con attacco 8 e 10 da 18 mm quindi il diametro interno e compatibile come abbiamo visto nelle spare parts con adattatore per drip tip con attacco 5 10 prendiamo quindi una basetta per rigenerazione e lo andiamo quindi ad esaminare bene allora faccio una macro così vedete meglio l'atomizzatore quindi il deck è un dual post lest ovvero deck senza le torrette allora è regolato tramite un cacciavitino a taglio dove le quattro viti sono disposte in questo modo ve lo faccio quindi vedere c'è una parte più ampia dove andrà quindi alloggiato il cotone andiamo quindi a allentare il grani ve lo faccio vedere con questa inquadratura e lo andiamo subito a rigenerare una volta aperti i grani miei cari amici non ci resta altro che da andare a effettuare la nostra rigenerazione con le due coil nostra premura quindi andare a prendere la misura delle gambine delle coil quindi andando le ad inserire quindi dentro al deck una volta presa la misura di quella giusta basterà quindi semplicemente portare a battuta la seconda coil ed andare quindi a tagliare le eccedenze in modo da avere quindi le gambine delle coil equidistanti arrivati a questo punto le andiamo quindi ad inserire dentro al nostro deck ed andiamo a serrare si vede bene sì una volta che abbiamo inserito la prima coil dovremo quindi andarla a posizionare nella direzione che più ci interessa quindi andremo a girare la nostra coil in modo che le gambine siano dritte e quindi poi le code i baffetti del cotone andranno inseriti in questi appositi spazi quindi inserite le due coil controllate che siano quindi equidistanti diamo qualche micro attivazione e procediamo quindi con l'inserimento del cotone ne andiamo quindi a ne andiamo quindi a tagliare le eccedenze e con l'ausilio di una pinzettina lo andremo quindi ad inserire come vi dicevo prima in quegli appositi alloggi per il cotone il lavoro finito per quanto riguarda l'atomizzatore adesso prendiamo la box e la andiamo ad esaminare ed eccola qui ragazzi Atena Squonk BF allora dimensioni sono 73x46 quindi per 25 mm l'andiamo quindi a vedere c'è questa parte superiore che quindi andrà a protezione questo è tutt'uno quindi con la box questi disegni sono quindi di avvellimento per l'Atena mentre la vaschetta sarà ospitata direttamente sotto lavorazione quindi dei due sportellini in questo come vogliamo dire nito d'ape materiale ragazzi alluminio e acciaio per un peso complessivo di 200 grammi il pin qui nella parte superiore è autoregolante quindi ogni qualvolta che andremo ad inserire quindi il nostro atomizzatore all'avvitamento dello stesso voi noterete che questa parte quindi del pin scenderà ed andrà quindi a sistemarsi più o meno alla metà di questo perno dove farà l'alloggio la calamita per gli sportellini eccolo qua si vede veramente molto bene allora due sportellini anch'essi quindi in alluminio quindi tre quattro calamite queste tre quindi faranno presa sulla batteria questa sul perno che abbiamo visto dietro quindi per facilitarci l'estrazione quindi della batteria il secondo quindi sportellino anch'esso ben rifinito è comunque asportabile si leva qui al lato quindi la scritta Atena vediamola quindi al suo interno slot per la batteria 18650 la parte quindi inerente alla tazza quindi alla vaschetta il negativo e tutto questo fa parte del positivo la lamella la lamella quindi è di facilmente estrazione per in caso di pulizia ve la faccio vedere allora le lamelle sono realizzate in materiale di alta qualità per una massima potenza in uscita queste sono quindi le informazioni che si trovano sul sito Geekvape non danno quindi informazioni sul materiale ma ci assicurano una qualità quindi sulla conducibilità quindi della stessa nella parte quindi dove alloggia il tasto c'è questo quindi c'è un blocco tasto veramente ben strutturato che quindi basterà semplicemente portare in salita questo blocco ed il tasto quindi non andrà ad attivare l'atomizzatore adesso noi andiamo ad inserire una batteria 18650 quindi polo positivo rivolto verso il basso vado a sistemare quindi meglio la lamella perché ci sono due alloggi uno è questo l'altro è questo si estrae e si inserisce ragazzi veramente con facilità adesso io vado a mettere quindi come vi dicevo prima inserirò quindi una boccetta di mia proprietà perché preferisco le mie super soft la boccetta si inserisce con molta facilità e vi faccio vedere una cosa all'inserimento quindi della stessa la boccettina avrà alloggio quindi sotto il perno sotto il cap della boccettina andrà a fare presa praticamente il perno bloccherà quindi la boccettina e quindi nei spazi rimarrà molto ferma e salda inseriamo quindi la batteria io vado ad inserire quindi a mettere del liquido sul cotone per la prima inizializzazione ed insieme andremo a fare delle prove di attivazione vediamo quindi come si comporta lo squonk della stessa allora avevamo inserito il blocco tassi come si vede qui a video se io adesso spingo praticamente la box non si attiva nonostante arrivi vicino quindi al polo di contatto per l'attivazione ovvero per la chiusura del circuito quindi vado ad abbassare la protezione e adesso la box dovrà funzionare quindi levato il blocco di protezione adesso la box è pronta per attivare e vi dirò che ha anche un'ottima reattività adesso quindi vado ad inserire lo sportellino dell'Athena e ne vediamo quindi come effettua lo squonk la box allora io vi dirò c'è il pin che quando entra quindi non so se si riesce a vedere vedete non è bucato è chiuso è stato studiato perché il liquido quindi entrerà per tutta per tutto il deck ed andrà quindi ad alimentare il nostro cotone l'atomizzatore ad NRDA ad un sistema air flow quindi che prenderà dall'alto l'aria e la coinvolgerà quindi dentro al tank ciò significa che se noi allaghiamo totalmente il nostro deck il liquido può salire di livello anche fino a toccare le coil poi dopo ci penserà la boccettina a fare il risucchio ma ciò comporta che il liquido non uscirà non avrà fuori perdite di liquido perché quindi il sistema di air flow è disposto quindi verso l'alto vado quindi a sconcare e vi faccio quindi vedere se lo risucchia se lo riprende il sistema è veramente molto fluido adesso io vado a chiudere quindi l'atomizzatore questa quindi è la box chiusa in se stessa cosa quindi ragazzi che ho notato che i sportellini nonché siano di alluminio facciano un'ottima presa grazie alle calamite hanno un leggero gioco e quindi sentite questo rumore a qualche millimetro di distanza che quindi li fa ballare un pochino per il resto lo andiamo a provare ci andiamo a sbavare considerazioni finali benissimo amici adena squonk kit la box in se per se ragazzi in alluminio pesa 200 grammi è massiccia è solita ha delle belle lavorazioni ottima quindi l'idea del blocco tasto lamelle di facile estrazione per la pulizia la boccettina quindi super soft si può cambiare con una qualsiasi come ho fatto io perché quelle presenti nel kit a me non piacevano più di tanto l'unica cosa ecco che vi dicevo è questo rumore dei sportellini che fa che fanno leggermente un po' di gioco allora lo squonk risulta molto fluido l'atomizzatore invece ragazzi a me non piace più di tanto semplicemente perché avendo il sistema da air flow quindi rivolto verso l'alto non ha come gli atomizzatori rda che spesso preferisco l'aria quindi diretta sulla coil l'aria quindi entrerà dall'alto e verrà convogliata sulla coil poi girerà nel tank dando quindi la possibilità di esaltare l'aroma il liquido che si sta utilizzando quindi a mio parere reputo l'atomizzatore più da flavor che da cloud chasing un altro problema che ho riscontrato non che il drip tip in ultim faccia una buona un buon isolamento del calore ok ma avendo quindi il sistema air flow alto io mi trovo scomodo quando prima di svapare tendo a despellere quindi a fare il primo tiro l'aria il vapore caldo mi viene a bruciare le labbra e trovo questa cosa molto scomoda comunque fatto sta miei cari amici basta quindi eliminare l'atomizzatore che non ci piace vado quindi ad inserire un atomizzatore di mia preferenza ovvero un apocalipse genv2 vado quindi ad alimentare subito le coil vi faccio quindi vedere una rigenerazione fatta con Nembowire la box come si comporta reattivissima e lavora veramente bene ragazzi su questo non c'è nulla da dire io volevo quindi darvi le giuste informazioni sul materiale della lamella ma non sono riuscito a trovare in rete le informazioni adeguate qualora sapete qualcosa voi che trapela sulla rete sul web ragazzi scrivetelo nei commenti così diamo un'informazione più a chiunque legga i messaggi quindi di questa recensione le lamelle lavorano bene non c'è nulla da dire box piccola massiccia in quattro colori a mio parere basta cambiare l'hub la boccettina mamma mia il vapore che ho creato basta cambiare la boccettina al suo interno e questa box economica di fascia quindi ragazzi economica che il prezzo varierà tra le 55 e le 70 euro shop italiano io la consiglio vivamente ben strutturata ben fatta molto ma molto reattiva cosa dire ragazzi è un dispositivo che da portare in giro da portare al lavoro qualora avete delle box importanti a casa e non avete intenzione quindi di portare al lavoro perché si possono rovinare perché si possono graffiare qualsiasi problema questa la considero veramente un ragazzi una box da muletto amici miei voglio sapere cosa ne pensate lasciate un commento alla fine del video su youtube e lasciatemi quindi i vostri pareri mettete un like se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale youtube on the svapo amici qualora non siete iscritti io vi saluto e vi ringrazio vi invito quindi a rimanere sul canale per la mia prossima recensione saluto tutti ciao mister nino iscrivetevi al canale